Il sabato di protesta dei gilet gialli francesi, il diciannovesimo consecutivo, si è svolto in modo nettamente meno violento che la settimana scorsa, quando gli Champs-Élysées sono stati letteralmente saccheggiati. Tuttavia non sono mancati gli incidenti, vetrine di banche infrantumi e lacrimogeni della polizia per disperdere i manifestanti, che a loro volta denunciano un clima repressivo. Ci sentiamo aggrediti, siamo nella legittimità, vogliamo manifestare pacificamente, abbiamo il diritto di esprimerci e di dire che non siamo contenti, non siamo gelosi dei ricchi, vogliamo soltanto poter vivere. Per tutta la settimana il governo aveva mandato messaggi muscolari, annunciando il dispiegamento dell'esercito e battendo sulle nuove regole più restrittive. Coloro che vogliono restare nei luoghi proibiti o manifestare senza averlo comunicato alle autorità saranno dispersi e verrà loro impedito di causare danni. La prima applicazione pratica delle nuove norme è arrivata a Nizza, dove alcune decine di manifestanti avevano sfidato il divieto. La polizia ha intimato loro di lasciare la piazza ed è poi passata alle maniere decise. Lo sgombero è durato pochi minuti appena. Negli scontri una donna è rimasta lievemente ferita cadendo a terra, mentre sei persone sono state fermate.